La logistica a fuori sacco, appuntamento questa sera alle 21 su Telelibertà con la trasmissione di approfondimento in diretta dallo Spazio Rotative. Mercato, la sperimentazione prosegue, il Comune va avanti con la chiusura di Piazza Cavalli il sabato, Confesercenti la chiede anche per il mercoledì e con un regolamento. Isola Serafini, lavoro in corso, dopo la conca e l'impianto ittico al via i lavori di manutenzione. A scuola, 75 anni, si è concluso l'anno accademico dell'Università dell'Età Libera, 330 gli iscritti dai 40 ai 75 anni. Algarilli, tempo di playoff, serie D alle 20, il Piacenza affronta l'este per proseguire il cammino negli spareggi e sperare nel ripescaggio. Restituiti i tre punti al Pro, è arrivata oggi la sentenza del Coni e a tre giorni dai playoff cambia l'avversario, non più Gubbio ma Forlì.